Si chiamava Janai Hurston, aveva solo 16 anni di età ed è morta per mano del padre, il quale l'aveva scambiata per un ladro. La tragedia si è consumata a Columbus, capitale dell'Ohio, Stati Uniti America. Il padre ha preso l'arma, l'ha imbracciata, che si trova in casa. Ha sparato contro colui, o meglio contro colei che pensava fosse un ladro, un intruso. In realtà non era il ladro, era la figlia che era rientrata di notte a casa sua. Il numero 911, numero delle emergenze, è arrivato da parte del padre e l'episodio ovviamente è oggetto di indagine approfondita da parte degli inquirenti che però per il momento non contestano alcun tipo di reato all'uomo. Il padre chiede alla figlia cosa stava facendo, entrambi i genitori implorano la ragazza di stare sveglia, la qualsiasi spesa è stata inutile, la bambina, la ragazzina. Purtroppo è morta, decido dopo poco tempo. Vi ringrazio per l'ascolto, Genaia Airston, che tu possa riposare in pace. Amen.